Ha prodotto alcuni fra gli importanti film italiani del cinema d'autore e conquistato un Oscar nel 1971 con indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Con le sue intuizioni, la sua apertura intellettuale ha anticipato i tempi e ha il grande merito di aver introdotto nel mercato cinematografico italiano numerose produzioni straniere, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo del cinema italiano. Signore e signori, Marina Cicogna! E' a fermare Marina Cicogna, come anche Silvio Polizio Giardina! Grazie Marina Buonasera Questo posto mi è abbastanza noto, perché in verità mi sono portata a casa parecchi David e vi guardo Hanno cambiato colore, i primi erano d'oro e poi a poco a poco sono diventati dorati ma erano sempre un... Poi la ragazzina quando si pensava in Italia, i miei genitori hanno pensato che in Italia sarebbe venuto baffone ci hanno mandato a Tormina per un anno a vivere, quindi è un posto che io conosco fin dalla più tenera infanzia e che amo moltissimo. Vi ringrazio infinitamente per darmi questo premio quando si arrivano a certe età si ricevono i premi alla carriera, però fanno molto piacere comunque Grazie 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 Grazie